Ben ritrovati amici del Centrometro Italiano, tempo stabile e soleggiato ma sempre con qualche temporale nelle ore pomeridiane. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 21 giugno. Sereno poco nuvoloso al mattino sull'Italia con tempo stabile, possibili temporali al pomeriggio su Alpi Appennino, fenomeni localmente intensi sulle zone interne della Sicilia, ampi spazi di sereno su coste e pianure al centro nord. In serata e inottata peggiora al nord-est con temporali anche intensi in movimento dalle Alpi verso le pianure di Veneto e Friuli, asciutto altrove con cieli terreni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie per la visione!